La velocizzazione della Roma Pescara è un'opera imprescindibile per lo sviluppo economico e turistico dell'Abruzzo. I soldi ci sono e ci saranno, step by step, assicura Lucio Menta, direttore investimenti di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del polo infrastrutture del gruppo Ferrovie dello Stato. Menta è intervenuto questa mattina all'Aurum di Pescara al convegno organizzato dalla TUA, la Società di Trasporto Unico Abruzzese. Il tema trasporti tra intermodalità e sostenibilità. Quindi la Roma Pescara collega il mar Tirreno con il mare Adriatico e quindi creando una nuova connessione, quindi potenziando la connessione della Roma Pescara attuale consente di sviluppare anche l'economia locale. Questi distretti industriali saranno ulteriormente rafforzati con il potenziamento della Roma Pescara e ci potrà essere una mobilità che al momento non è ancora completamente soddisfatta dall'attuale sistema infrastrutturale. Questo garantendo una maggiore attrattività turistica e potenziando anche questa ricettività che come sapete con la Regione Abruzzo riesce a sviluppare a pieno vista la sua capacità e le sue bellezze paesaggistiche. Ci sono i soldi quando servono e soprattutto in linea con le autorizzazioni e con i progetti che abbiamo disponibili. Questo è l'importante. Come in qualsiasi buona famiglia si realizzano gli interventi in maniera progressiva, dando un beneficio immediato. Quindi i primi due lotti della Roma Pescara, come sapete, sono stati già mandati in gara. Dopodiché, senza soluzioni di continuità, nel successivo mese di gennaio contiamo di avviare il dibattito pubblico sui lotti di San Giovanni Teatino, per capirci, su Interporto, quindi sui lotti iniziali. In questo modo andremo ulteriormente avanti con ulteriori step, quindi si avvierà una parte realizzativa. Noi come tu abbiamo presentato il nostro primo bilancio di sostenibilità. È uno strumento non finanziario, come bilancio ma non finanziario, all'interno del quale si vanno ad esplicare voce per voce tutti gli interventi che la società fa per rispettare i concetti di ESG, cioè ambiente, società ed economia. Tutto quello che facciamo quotidianamente per cogliere i nostri principali obiettivi, quindi riduzione dei costi energetici, recupero delle acque, miglioramento dei servizi verso, per esempio, chi ha ridotte mobilità, quindi modifica dei nostri mezzi, fornendoli di piattaforme, acquisto di mezzi più ecologici. Insomma, tutti interventi contenuti all'interno di un bilancio che spiega con investimenti correlati le azioni che fanno praticamente deviare piano piano questo grosso transatlantico che è tuo avverso quello che è il concetto di sostenibilità moderna.